Buongiorno a tutti, benvenuti nella rubrica del benessere dei capelli. Dunque, stamattina ti voglio parlare di un prodotto che ho brandizzato da poco, che fa parte della mia linea di prodotti, diciamo, a marchio Lius Air Stylist. Per chi già conosce la mia linea professionale per la cura dei capelli, sa già che ci sono diverse tipologie di prodotti che possono, a largo specchio, intervenire là dove ci dovessero essere dei problemi specifici per il grasso, per la forfora, per i capelli colorati, i capelli crespi. L'ultimo arrivato nella mia famiglia di prodotti è un prodotto che abbiamo cercato con l'azienda di creare qualche cosa che potesse essere versatile, facile da usare e allo stesso tempo che non ci dovesse essere troppo tempo nell'uso. E parliamo di un prodotto che fa dieci cose in un'unica soluzione. Questo è il prodotto, si chiama Spray Multifunzione 10 in 1. Ma vediamo un po' più nel dettaglio cosa fa questo prodotto. Dunque, innanzitutto è un ottimo districante, dà più corpo ai capelli, ha un ottimo controllo del capello crespo, è un ristrutturante, facilita anche la piega, anche quando uno deve fare la piega a casa, è un protettore del calore, soprattutto per chi ama passare molto spesso il ferro, la piastra. C15 ha una durata dello styling un po' di più rispetto ai prodotti tradizionali. È un antiossidante, soprattutto quando protegge dagli agenti atmosferici, diciamo l'inquinamento, protegge dal calore e ottieni un capello molto lucido e morbido. Ovviamente le quantità sono importanti, è uno spray, quindi giustamente può essere usato e affiancato alla base, diciamo, del lavaggio, quando tu, dopo aver fatto lo shampoo, poi metti la maschera, ovviamente la maschera deve stare un po'. Se non hai molto tempo disponibile e hai un capello da curare velocemente, puoi utilizzare qualunque shampoo della linea professionale, diciamo della mia linea professionale, e utilizzare questo spray da mettere per distrigare, ammorbidire, ristrutturare, senza appesandire ulteriormente il capello. Ovviamente anche le quantità sono importanti, non ne devi fare un abuso, chiaramente. Se hai un capello sottile, ne devi mettere pochissimo. Se invece il tuo capello è molto secco, molto corposo, molto, come dire, asciutto, perché magari hai un capello colorato e un capello di natura già grosso di suo, allora questo è un prodotto che ti può risolvere diverse cose, perché non devi stare lì, diciamo, alla ricerca di sopperire con qualche prodotto in più per fare più cose. Questo ha la capacità, e non lo dico perché parlo di parte, perché è un mio prodotto, ma ti invito veramente ad usarlo perché ti potrà dare molte soddisfazioni. Io ti ringrazio per l'attenzione e mi auguro che avremo la possibilità da vicino che tu possa provarlo. Grazie e ti auguro buona giornata.